Tophia Rebora, una sconfitta pesante questa sera, avete lottato tantissimo, però la vittoria è andata a Trentino. Lottato tantissimo a momenti, secondo me il primo set abbiamo fatto un ottimo gioco e come sempre succede che poi si spegnerà luce per cause che io ancora non capisco e quindi è andata così. Mi dispiace perché ora io non ho sbagliato i risultati, però mi dispiace perché chiudere la stagione così non va bene. Non va bene per gli obiettivi che c'eravamo costruiti e potevamo fare meglio, quindi potevamo lottare di più anche in questa partita ma anche con le presidenti e quindi mi dispiace. Io vorrei ringraziare i tifosi perché non ci hanno mai mollato nonostante questo momento di difficoltà, quindi vi ringrazio davvero. Qualificazione è attaccata soltanto a un miracolo in questo momento, soltanto Caserta potrebbe regalare i playoff ma è veramente difficilissimo. Sì, come ho detto prima non so gli altri risultati, quindi non lo so, vediamo se riusciremo a entrare per sfortuna degli altri, speriamo almeno di portare avanti questi playoff. Sicuramente l'uscita di Capitan Biganzoli non vi ha aiutato, assenza pesante. Sì, sì, comunque Federica è la nostra bilancia perché ci dà un sacco di equilibrio e comunque credo che l'abbia sostituita meglio che avuto. Immagino che ci sia tanta tanta amarezza in questo momento. Sì, tanto, perché come ho già detto non abbiamo lottato. Grazie.